Musica Buongiorno ragazzi, quest'epri e bentornati nel diciottesimo episodio della serie più difficile, più hardcore, più bestemmiosa della storia di Minecraft Shards of the Void, eravamo bloccati nella cupola di vetro dove erano tutti i ghast, tutti gli mini zombie, gli scheletri E dobbiamo salvarci, ce la faremo? Ma ciao, da dove passiamo noi per non morire? Non lo so, siamo fottuti Allora io sto giocando in 1.7, in 1.8, spero di star facendo la cosa giusta Allora io escludo di salire, perché se ci colpisce di nuovo uno di me, poi ci siamo fottuti Però sarebbe anche l'unica via velocissima di salvarsi veramente il culo Quindi che cosa facciamo? Vogliamo rischiare o vogliamo provare ad entrarci all'interno di questa struttura? Perché non si distrugge questo? Che cazzo è? La lana, la neve più indistruttibile della storia E la madonna Quelli sono infuriati, eh Io ve lo dico sono arrabbiati Aspettate, toc toc Ma questa... Ah, ma questa è quarzo, non è neve Infatti mi sembrava strano fosse neve Innanzitutto dovete abbassare la voce Perché mi state spaccando i timpani Ok? Mi state spaccando i timpani Intanto per iniziare Bene, benissimo Allora, dobbiamo fare attenzione Perché sto usando il piccone Non si sa, non si sa, non si sa Piano step Occhio a cosa spacchi Perché se no ti spaccano il culo Oddio La mia morte me la son vista in faccia Piano Allora, intanto ho sprecato che poi i materiali ci avevo Bene, complimenti step Complimenti Qui non direi che possiamo scendere Cioè, non è una cosa sicura Per niente Considerando che Ciao piccignaccoli Allora, in teoria non dovrebbero colpirmi Se io ti spacco quello lì E poi ti spacco anche la faccia Brutto stronzo Non dovrei Muori Ah, bene Non possono colpirmi Molto bene Sì, però sono tantissimi A precedere dal fatto che non possono colpirmi Guardate quanti ce ne sono Allora Secondo voi posso scendere di un altro cubetto? Io ho paura di non poterlo fare Vediamo Ok, un altro cubetto potevo Adesso, quindi, che ho loro sotto Posso intanto tappargli tutte le vie d'uscita A questi maledetti E questa diventerà la vostra tomba Allora, l'ordine di abbassarti Ma mi diverto io, sai Morite tutti Morite immediatamente tutti Via, 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 via Ok Non è poco, eh Abbiamo già fatto una bella Via Tappa, tappa Ok Allora, abbiamo guadagnato un po' di spazio Metti un po' di torce Qua e là Metti un po' di torce Ok Lì è aperto e non mi fido Quindi tappo Allora, potremmo fare Intanto per iniziare Una scala a chiocciola Che conduce al piano di sopra Porca miseria Oddio, ci sono i blazer Qua sotto ci sono i blazer Oh, buoni, buoni, buoni Ragazzi Oh, ho l'acqua Ho la Siti tutti Morite Di me muoiono Muoiono Oddio, è genio L'invasione perfetta Nessuno si salda Oh, cavolo Acqua, buttagli l'acqua Nessuno di voi si salda E gli zombie Poi Chi altro c'è? Eh? Qui c'è troppa gente Per i miei gusti, però, eh Ce la faccio a distruggere quello? Porca, tra le no Di un pelo Allora, se mi butto giù Probabilmente muoio Perché là sotto è aperto Non badate, faccio così, però E la madonna Ehi, 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 ehi Cumpare Cumpare No, 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 no Maledetto L'ho fatto, l'ho fatto Uccidilo, uccidilo Oddio Ho rischiato troppo Ho rischiato troppo ragazzi Calma Oddio, bene Allora, calma Ah, ce la possiamo fare Dobbiamo solamente ingegnarci un po' Prima Aia, aia, aia Che dolor Che dolor Che mi dolor Dobbiamo riprendere vita Prima di tutto Ok Poi, quando abbiamo ripreso vita Possiamo decidere Di estrapolare un piano Io intanto direi Di Ok Che non ci possiamo fare No, no, no Ti ti ho fatto salire? Ti ti ho fatto salire? Che c'hai? Il privette? Porca miseria No, chiudi tutto Chiudi, 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 chiudi Chiudi Prendi l'acqua E richiudi tutto No, non mi fido di questa gente Questi mi massarono Riprendi il melone Mangia un po' di melone Con calma Ora si guarda che fare Te intanto riprendi vita Costruiamo La famosa scala Che ho detto Tre minuti fa Che era l'idea migliore Fino adesso Quindi Tac, tac Quei cosi fanno un rumore Però incredibile Cioè Si è capito Stai soffrendo Nelle fiamme del dolore Anzi Nelle fiamme è un corno In teoria nell'acqua Dovrebbe soffrire Bene Io come al solito Metto gli scalini dritti No? Sono famoso Per mettere gli scalini dritti Non importa Va bene lo stesso Tappa Ok Allora Siamo di nuovo Su Non proprio Siamo una specie Di essere su Mettilo No perché me lo mette storto? Ma che problema Ha? Perché? Vabbè Io mi rifiuto Ok Allora Noi qui siamo in teoria Mezzi fuori Se riuscissimo Tramite il quarzo Aspettate Ok Allora Sopra di noi C'è quella colonna Che abbiamo percorso Per arrivare fin qui Ed è Diciamo La via d'uscita Ma vi ho detto prima Più semplice di tutto Perché in teoria Basta Io ho paura Ecco Ciao Nessuno C'è nessuno Permesso Ok Questo piano È abbastanza Al sicuro Almeno sembra Almeno sembra Ok Da qua Io potrei No 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 Non è che mi fidi Poi tantissimo Ci sono le navi Dei pirati Allora Sinceramente Avremmo dovuto Scalare Tutta questa cosa Per vedere cosa ci servava La storia Ovvero La struttura In sé per sé Ve lo sa No 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 Non mi fido Proprio più Proprio più Proprio più Non mi fido Di te No 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 Allora Fermi Perché qui È fatto Oh fermi Allora Io potrei Potrei buttarmi giù Adesso E provare Di ucciderli Ma c'è Non ci sono altri Io sento Dei blazer Soffrire Ma non capisco Dove sono Allora Fermi tutti Potrei buttarmi Nell'acqua E vedere Dov'è il blazer È là sotto Il blazer è qua sotto È morto È morto È morto È morto Allora Adesso non ne nascono più Che c'è l'acqua Se io mi butto Nell'acqua E ammazzo quello Dove è essere tranquillo Giusto Giusto Houston Houston Non abbiamo un problema Ce la stiamo facendo Houston Spacca lo spanner Di blazer Ok Stiamo conquistando La torre del male Bene Tappa Tappa tutto Ehi Chi era? Chi è stato? Tappa tutto Tappa Arriva di là Morca tra È difficilissimo La corrente È più potente Di tutto Ok Prendi questo Prendi quello E metti un po' Di torce E anche questo livello È posto finalmente Al sicuro E noi abbiamo Uno smeraldo Una nuova spada Un nuovo tutto Anche una spada Che ci faceva comodo Non aveva Bene Di qua cosa c'è? Smeraldi Smeraldi molto bene Meno bene Perché tutto Meno 20% speed Non è giusto Allora sotto di me Sento Il male Il male fatto a persona Eccolo là il male Muori male Ehi 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 Il gas ha sparato Io non mi fido però eh Perché sarebbe Buona cosa Cercare di estrapolare Da questa mappa Tutti i materiali possibili Tutti gli smeraldi No No Schifoso Che cecchino Ma affatto Tappati Tappati step Non gli dai la possibilità Di farti il culo A questi maledetti Bene Mi sei chiuso E va bene così Allora Ciao bellissimi Come state? Sono là sotto Però l'acqua Sprofonda E non mi permette Di creare Un tunnel Che li uccide Se io facessi Un'apertura Aspettate Tipo così Che li trascina Al di fuori Del palazzo Che in teoria Dovrebbe funzionare Basta che l'acqua Non infili per le E la madonna Quanti sono Quanti cavolo sono Ste cosi Ok Ora c'è un minimo Di corrente Che gli infastidisce Oe cos'era quello? Madonna Ci sono dei rumori Che fanno Fanno venire i brividi Però eh Ma qui ci sono delle Ehi 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 Non mi piacete affatto Voi Cosa Eh Cacca miseria Cacca miseria Ok Allora siamo in una situazione Alquanto Messa male Sotto in teoria Noi potremmo sconfiggerli Quegli lì Perché loro Se non erro Combattono da lontano Giusto? Loro si Possono avvicinarsi a me Però Ho il knockback Vero? Io con il knockback 2 Dovrei potercela fare Quindi fatemi vedere Un attimo una cosa Se non ci sono scheletri Io posso scendere Buttarmi in un angolo Anche se quelli piccoli Mi fanno una paura Oh ma questa cesta Ah ok Già controllata Quelli piccoli Mi fanno paura Ragazzi Mi fanno paura Ci devo fare Allora io potrei andare Intanto qui E intanto siamo Un cubetto più vicino a loro Loro non possono prendermi Giusto? Esatto Non mi possono prendere Mentre io posso avvicinarmi Se io scendo Spacco lo spawn E poi provo ad ucciderli Secondo voi Ci si può fare? Secondo me si Secondo me ragazzi Ce la possiamo portare a casa Lo spacchi? Lo spacchi? Si lo spacchi E uno rotto Allora intanto Chiudigli Il percorso da fuori Che è già un buon inizio Anche se il picco Ma quelli sono del reader Quelli sono alti Tre No ragazzi Non mi fido Essi ci ammazzano E ci ammazzano Fermi tutti Potremmo fare Una cosa del genere Cercare di creare Un perimetro seconda Non mi fido Questi mi colpiscono Cioè 10 a 1 Che mi colpiscono Faccio un bordo È lì Perché non si sa mai Aspettate Morite Ce la posso fare Ragazzi ce la faccio Ragazzi Riusciremo A sfuggire Dalle grinfie Di questa mappa Ve lo prometto È un obiettivo Che ormai Mi sono posto E ci riuscirò Piccolo piccignacolo Maledetto Eila Eila Giullari Giullari Se mi colpiscono Mi fanno male Quelli perché mi avvelenano Pure Il veleno Quindi non va via Se non c'hai la cosa Non c'hai il latte E il latte non ce l'ho No dove vai te Mori Ok devo innanzitutto Chiudere le porte Se chiudo le porte Guarda 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 Mi viene trascinato Dalla corrente La mia missione Aveva Aveva Sono immortali Quanti colpi Devo tirarti Per ucciderti Un centinaio Cos'è sta sto Intanto non possono Colpirmi Perché questa è già Una cosa buonissima Però non muoiono Cioè che non muoiono È un problema È un grosso Allora Fermi tutti Ho un'idea Ho un'idea Se io faccio così A te ti spingo L'addietro Col knockback E ti chiudo L'addentro Fermo Sta dietro Vai dietro Madonna devi fare La fila Devi fare La cavolo di fila Ok Allora Se io mi chiudo L'addietro Passano lì No perché c'è l'acqua Non possono passare Aspetta da dove sei arrivato No questo è spawnato Dal niente Non mi piacete Voi non mi piacete A fa Cos'è questa cosa Si sta avvicinando Il male No è una nuvola Semplicemente una nuvola Però sembrava tipo Il male fatto a persona Muori Ok Ok da così posso avvicinarmi E poi uccidervi meglio Schifosi Maledetti Questa nuvola mi sta dando fastidio Mi sta infastidendo alla grande Ma ci sono cesto qua sotto No perché sto facendo tutto questo per niente No però c'è una scala Che conduce da qualche parte E sicuramente sarà una parte buona Quindi tu Muori Per piacere Ok Guardate quanti colpi devo tirargli Quanti Oddio Ti faccio schizzare fuori Zitti Forse Via fuori Fuori Via là Via da là Via da là Ok Mission complete Mission complete Posso anche scendere ora Ce n'è uno solo in teoria In teoria Proviamo Proviamo dai Mori grazie Mori brutto schifoso Mi ha dietro la colonna Non può colpirmi È andato via È andato via Tappa Tappa Ok adesso levo l'acqua Adesso levo l'acqua Corro là Tappo anche lì Ok Tappa anche qui Tappa anche qui Ho finito ok 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 siamo no 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 per niente non va per niente bene da dove è arrivato quel maledetto con la scala è arrivato vi rendete conto è arrivato con la scala però ha un guider è un guider quindi non può salire è salito ok ragazzi è accanto a noi no 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 ok calmi calm down calm down calm down calm down siamo messi nella calca buonanese Grazie per la visione!